Questo è Minecraft, ma ogni 5 minuti diventeremo dei mostri, proprio così, ovviamente sono in compagnia di tutti e Ferezetta! Ciao! Eh, sì, non c'è Zoe purtroppo perché sta ancora male e quindi di conseguenza noi lo aspetteremo a braccia aperte. Comunque, allora, siete pronti? Sbrighiatevi! 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 Sbrighiatevi tutti! Che cosa dobbiamo fare? Allora, prendi la legna perché oggi dobbiamo andare nel nether, proprio così. Sì, dobbiamo andare nel nether. Abbiamo 5 minuti! Abbiamo 5 minuti! Dobbiamo sbrigarci, sciapolettone! Dobbiamo fare la speedrun! Esatto, la speedrun! Tranquillo, c'è un modo, ho trovato questa caverna, in teoria dovrebbe servirci per andare di sotto e trovare i diamanti perché altrimenti non si può trovare un portale a casa. A me sì, ci vi potrebbe trovare. Esatto, sì, appunto, dobbiamo avere un po' di fortuna adesso. Ok, fatemi tutto quello che vi serve, mi sono fatto tutto quello che mi serve. C'è il piccone! Esatto, iniziate a prendere tutta la pietra. Sì, sì, mi faccio i tensi quelli buoni, non quelli legni che fanno un pochino male. Eh, adesso... Anche io, anche io. Sì, 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 io me lo faccio per me, però intanto mi prendo anche la pietra per voi, dai. Ok. Mi ha dato un piccone vecchio. Perfetto, così. Ragazzi, se trovate ferro subito prendetelo, eh. Mi raccomando, qualcuno vuole un piccone in ferro? Già in pietra, voglio dire. Pietra? Adesso per me. Ok, vabbè, non ne vuole nessuno piccone in pietra. Allora, vai, inizio a fare una fornace. Vai, 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 sì, scavate il carbone. Io sto cercando del ferro. Hai trovato ferro? Sì, qui in alto. Eh, un ferro. Ah no, eccolo qua. Ok, dobbiamo averne tre, così prendiamo subito il diamante, eh. E sopra di te? Eh. Ok, hai preso. Ok, bravo, bravo, bravo. Cacchia, non vedo proprio niente, non vedo. Aiuto! Si arriverebbe? Delle torce? Eccole. Ok. Ok, ci siamo tutti. Che ha messo a cuocere il ferro? Trucco, tranquillo, va bene Mamma mia, sono stra-intelligentone Lo so, ho capito Basta questo Va bene Ragazzi, vi volete calmare un po', sciapolettone Cioè, vi siete proprio stra-ansiogeni Vabbè, inizia a illuminare Andiamo a cercare, io mi vai, scendi giù Ecco l'ecco il ferro Lo prendo io Continua a scendere, magari vai verso destra Prova a vedere se c'è qualcosa Vado verso l'inistra Raga, ossidiana Come ossidiana, veramente? Ottimo, ottimo, brava, brava, brava Prendo questo ferro io Non puoi prenderla con lo piccolo in ferro, l'ossidiana Mamma mia Come trovi i diamanti? Veramente Non ci credo Mamma mia, io mi, ma tu sei la ragazza più fortunata al mondo, sciapolette Ok, vai, Grucco Ottimo, raga, mi è pure qua l'ossidiana Possiamo farsi subito il portale adesso Sbritini questi tre Bravo, bravo, bravissimo, bravissimo Io scrocco la spada, ciao Vabbè Che cosa? Scalcoli la spada? No, scrocco Scaccoli Che schifo Mamma mia, appunto ho detto What the fuck Non lo scaccolo Ok Ok, inizio a prendere io l'ossidiana, eh Oh mio Dio Raga, siamo già tre minuti e già abbiamo trovato i diamanti Ma in che senso? Corri, corri Oh mio Dio Ragazzi, proprio in questo momento adesso dirà Yumi la cifra di like che dovete raggiungere Vai Yumi, sotto i 20.000 magari C'è una a caso Ok, a 15.000 Esatto, 15.000 Lasciate un botto di like se volete altri video dove ogni 5 minuti diventiamo qualcosa Perché so che è bellissimo che questi video vi piacciono e anche a noi piace registrarli Perché ci divertiamo Sì, aspetta Che ci trasformiamo Hai ragione, Yumi Mi sto sbrigando Ok Ok Io ho già fatto l'accendino Ma quanto male? Aspetta, ne servivano 11 se non sbaglio di ossidiana, vero? No, anche 10 Ma questi qui lascia lì non li rompere, li usi come base Come li usi come base? Ah, vero Hai ragione Allora, allora Possiamo fare Oddio ragazzi, possiamo fare tipo la roba degli speedrunner Però non la so fare molto bene io No, ma non li sai L'accendino, non ti preoccupare Eh, meglio evitare Forse sì, forse è meglio Ok Prendo questo Potete mettere della pietra dietro la lava? Cioè, dietro l'ossidiana, eh Se così almeno mi proteggi Ok, bravissimi Perfetto Ok No, no Che è stato? Che è stato? Che è stato? Qualcuno l'ha spinto qualcuno, raga Che è stato? Yumi, sei stato da te? No, io non sono uno snitch Ok Io lo snitch Ok Allora Bene Io metto qua la pietra Ragazzi, avete visto qualcuno che ha bisogno qualcosa? Scrivetelo nei commenti Vediamo che è stato Vieni un sciocoblocco Voi lo sapete? Un sciocoblocco Dove cacchio li hai presi? Ok Perfetto Perfetto Metti due bloc... Ah, non ne abbiamo Lo prendo io Li prendo io Li prendo io Oddio No, se ce la lavai sotto Oh no Dimiti no Dimiti no No! Oddio! La De Ryan Mamma mia, sì! Vai, vai, vai Vai, pure questo Vediamo se ci riesci Vai, uno sposta Ok Io sono pronto In cassa A mettere il blocco sotto Oh Mamma mia Vai, Grucco Mettilo qua Mettilo qua A fianco all'altro Perfetto Vai, Grucco A tuo onore Boom! Ottimo 5 minuti Entriamo in c... Ah, raga, 5 minuti Devo trasformarci 3, 2, 1 Che cos'è quest'urlo? Oddio un ghast È il magma No, cioè è il ghast Sono diventato un ghast Stupidi Vabbè Voi che siete diventati Lì abbiamo un magma Ok, Yumi è diventato un blaze Poi c'è Io sono piccolo Io sono lo squitter skeleton Ok, Elok sono lo squitter skeleton Io sono il magma Grucco è magma Mentre Elok è un motherfucking Big man Io sono Ryan Ah Eh, Ryan Volevo dire Eh Ok Ragazzi io posso farvi strada Eh, in teoria Eh, aspettate un attimo Fatemi vedere un attimo Oh Ti faccio strada Dobbiamo uscire da questa parte Lo so Però non metterti dove faccio esplodere Anche adesso è un magma Block Ho capito Io non sono un magma Block Eh Ok, vai, vai Che è successo? Dove? Io non riesco a passare Devo farmi un bel po' di strada io Aspetta ti aiuto Aiuto qui Ah, scusatemi Non voglio farvi esplodere Però è l'unico modo per passare Ok Sono troppo grasso Sono troppo grasso Non ci credi abbastanza Sfri, più forte Eh, giusto Hai ragione pure te Oh Sto entrando Sto entrando Sto entrando da tra parte Arrivo Dai Voglio volare libero Sono incatenato all'interno di questa caverna oscura E voglio volare libero all'interno del neder infinito Ma lasciatemi andare Vieni, mi è Vieni qua Dai Sono pocato Sfri, non va bene Mangia di meno Ho capito Che vuoi Sono le mie Melle caste Che mi fanno mangiare tanto Sono tutte femmine le caste Non so se lo sapete Ok Vieni, vieni qua Finalmente Sono libero Guarda cosa so fare Questa è la mia volta speciale Wow, che figata Io pure Però la mia volta è potente perché esplode Eh sì, tu sei un caste Eh sì Oh, dove sono? Ah, wow Manca Ora ne faccio Oh Oh, oh Eh, vabbè Ragazzi, io posso notare nella lava Non vi preoccupate per me Davvero Ah, wow Guarda, Ryan, è qua Lol Vai, ce la fai, vai Ma quella fianco è trucco Sì, vai Corri, vieni, vieni Dai, bravi, bravi Perfetto Oh Ah, guarda Guarda qua Trucco praticamente Può piazzare la lava a suo piacimento attorno Che bello È fighissima questa cosa Eh Ryan Tu cos'è che fai di speciale? Io Io sono molto calmo Fin quando qualcuno non mi rompe le scatole No Lui vuol farci fare i scambi gratis Con i piglin È vero Sì E cosa aspetti? Ah, posso? Ok Eh, datemi, datemi Un piglin Oh, vai Io Ascoglio Andiamo a cercare Ragazzi Ah, ma dove è stato? Ah, eccolo qua Elox Oh, ciao Elox È arrivato E meno male Oh, che carino che sai Tutte con le abilità Io Ah Oh Tu che fai? Tu ho avvelenio e basta, credo Lui ci guidera Guardate che è fortissimo Sì, vero Lui ci guidera Ah Per le scatole Mi ammazza la lava prima Ma scusami Ma i Wither non sono Immune alla lava No Veramente Oddio, ragazzi Ma che cacchio Ma di nuovo Eh, sì Poveri No, in realtà pensavo che il più scherzo fosse Ryan Invece mi sa che proprio Elox è quello più scarso qua Io sono il più forte, sì Dovremmo trovare una Stronghold No, una Stronghold Una Nether Fortress Da portarci così il Ryan, no? Cercherla tu che puoi volare almeno Vero, vero La vado a cercare Esatto Vai, corri E non so vero dove potrebbe essere effettivamente Ehm Io sto cercando in giro Vediamo un po' Così almeno li tipo da me E dovrebbero riuscire ad arrivare Insieme a me Ma che cacchio Dovrebbe essere qua da qualche parte Guardate qua c'è la zona della Della Delle robe brutte Del fuoco blu Ma che cacchio è L'Ender Fortress Io la sto cercando Sciapoletta Oh mio Dio Non ditemi che ci metterò un delirio Dovrebbe essere qua da qualche parte Ok Quando c'è tutto questo spazio Significa che effettivamente Dovrebbe essere qua da qualche parte No, no Giriamo l'angolo How Che 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 Which Che 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 Grazie per la visione!